Eccoci ben ritrovati per questa nuova edizione di Spazio Notizia che abbiamo partendo da Agrigento dove è in corso la 76esima edizione del Mandorlo in Fiore, questo importante festival che durerà fino al 17 marzo. In corso ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, il festival Mandorlo in Fiore, una festa simbolo di pace e fratellanza tra i popoli come sottolineato dal sindaco Franco Miccichè. Il festival del Mandorlo in Fiore ha radici profonde nella storia e nella cultura siciliana. La fioritura dei Mandorli infatti simboleggia da sempre la rinascita della natura dopo il rigido inverno. Numerosi i turisti giunti ad Agrigento per la manifestazione Folk che da sempre testimonia l'avvento precoce della primavera e il messaggio di pace e concordia tra i popoli simboleggiato dal tripode dell'amicizia acceso un martedì davanti al Tempio della Concordia. La manifestazione, promossa dal Comune, proseguirà fino a domenica 17 marzo tra danza, musica, animazione, intrattenimento, spettacoli, mostre, artigianato, enogastronomia ed esibizioni di gruppi Folk stranieri provenienti da ben 22 paesi del mondo. A Ustica invece alvia una campagna internazionale di ricerche subacque con un obiettivo ben preciso. Vediamo quale. Una campagna di ricerche subacque interesserà l'isola di Ustica al largo di Palermo dal 15 marzo al 30 aprile. Un progetto realizzato dalla Cranfield University del Regno Unito e dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana in collaborazione con la Guardia Costiera, il Comune e l'area marina protetta dell'isola. L'obiettivo è quello di individuare nuove evidenze archeologiche e nuovi relitti in modo da programmare eventuali recuperi e interventi di tutela. Proseguono senza sosta le iniziative alla scoperta di testimonianze preziose della nostra storia più antica, ha dichiarato l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Attraverso metodologie avanzate e tecnologie innovative, ha aggiunto, sarà possibile riportare alla luce reperti ancora sconosciuti che andranno ad arricchire il patrimonio culturale sommerso di Ustica e dell'intera Sicilia. La campagna prevede un'indagine lungo tutto il perimetro dell'isola a una profondità compresa tra i 50 e i 300 metri, coprendo un'estensione di circa 36 chilometri quadrati. Verranno utilizzati due robot sottomarini a guida autonoma dotati di side scan sonar che permetteranno di mappare i fondali usticesi e che grazie all'utilizzo di onde acustiche riporteranno in superficie dati utili alla creazione di mappe dettagliate dei fondali oggetto di indagine. I target individuati verranno ulteriormente esaminati con un robot subacqueo comandato via cavo dalla superficie che consentirà di effettuare riprese video e fotografie dei siti ritenuti più interessanti. Il team sarà composto da ricercatori provenienti da diverse parti del mondo, Stati Uniti, Danimarca, Scozia e Italia. Vista la conformazione dell'isola di Ustica, nel tratto sottocosta e per il settore che va da 0 a 50 metri di profondità, verrà impiegato un team di sommozzatori che effettuerà una serie di prospezioni subacquee per individuare eventuali evidenze culturali presenti sul fondale. Mauro Romano ha invece intervistato un giovane cantante siciliano, Pietro Villari, che sta già ottenendo degli importanti risultati. Pietro Villari, Ugo Lalladoro di Giardini Naxos, che ha avuto un'esperienza molto importante. Ma cosa è successo, Pietro? Allora, io ho partecipato alla finale del Festival Note in Radio che si è tenuta ad Ascoli Viceno. Durante questa finale ho duettato con un ragazzino di 11 anni, di nome Matteo Trullu, che proviene dalla Sardegna. Siamo arrivati i primi per la categoria ragazzi e in più abbiamo vinto il premio Presenza Scenica. Chi sono i tuoi maestri che ti hanno seguito in questa importante performance? Allora, io faccio parte dell'Accademia Live Sound di Dormina e i miei due maestri sono Ivalo Giudice e la maestra Laura Lorre. Cosa speri per il tuo futuro? Io spero comunque di intraprendere questa carriera perché il canto è una passione che ho fin da quando sono piccolo. Chi è il tuo cantante preferito? Allora, io diciamo come generi ascolto più il rap, però come canzoni canto più il pop e il mio cantante preferito è Lazza. Potresti pensare di comporre un tuo pezzo da proporre magari al Festival di Sanremo? Beh, ora come ora ho 15 anni, però diciamo che per un futuro lo spero. Parliamo adesso di istruzione con la regione siciliana che aumenta i contributi per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti scolastici siciliani. In Sicilia l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha disposto l'aumento dei contributi per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti scolastici. Il decreto, firmato dall'assessore Mimmo Turano, prevede incrementi per tutte le scuole ma che arrivano al 50% per gli alunni degli istituti professionali per i servizi enogastronomici e l'ospitalità alberghiera. Gli aumenti, che investono tanto la spesa a procapite per gli studenti quanto i contributi per i singoli istituti, sono a naturale e immediata conseguenza del rimpinguamento del fondo di funzionamento amministrativo e didattico passato da 27 a 30 milioni di euro all'anno. Sono fondi che siamo riusciti, afferma l'assessore, ad aumentare e che spendiamo fino all'ultimo euro perché le scuole possano funzionare sempre meglio. Vigiliamo e provvediamo affinché il benessere e le opportunità didattiche dei ragazzi si evolvano costantemente. Le nuove dotazioni, che andranno completamente a regime all'inizio del prossimo anno scolastico 2024-25, comprendono tra l'altro l'aumento da 100-150 euro per ogni alunno dell'Ipsoa, l'inalzamento dei contributi per tutte le istituzioni scolastiche senza distinzioni di ordine e grado, da 4.000 a 6.500 euro ciascuna, cui si aggiunge l'incremento da 400 a 500 euro per ciascun plesso scolastico e sede aggiuntiva di ogni istituto, l'assegnazione aggiuntiva di 1.000 euro per gli istituti professionali agrari dotati di un'azienda agricola, l'ulteriore assegnazione aggiuntiva di 500 euro per le scuole che ospitano corsi serali, per le scuole ospedaliere e per le scuole carcerarie. La cronaca, partendo da Frazzano, siamo nella Messinese, parliamo di una rapina commessa all'interno di una gioielleria con i carabinieri che sono poi riusciti a risalire ai responsabili. Si tratta di tre soggetti finiti ovviamente in manette. I carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno tratto in arresto tre persone, un trentenne e un trentaduenne finiti in carcere e un ventiduenne ristretto ai domiciliari. Sono i presunti autori di una rapina commessa nel gennaio 2023 in una gioielleria di Frazzano nel Messinese. Dopo essersi introdotti nel negozio con il volto travisato e aver aggredito il proprietario, il trentenne e il trentaduenne, entrambi palermitani, si sarebbero impossessati di diversi gioielli, orologi e denaro per un valore totale di circa 40.000 euro. Prima di darsi alla fuga, i rapinatori avrebbero immobilizzato, legando gli mani e piedi, il gestore della gioielleria, il quale tuttavia era riuscito ugualmente ad attivare il sistema di allarme che ha permesso l'immediato intervento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari, il ventiduenne, complice dei due palermitani, prima della rapina, si sarebbe recato nella gioielleria con il pretesto di acquistare dei preziosi. Una volta ultimato l'acquisto, sarebbe uscito dal negozio lasciando volutamente la porta aperta proprio in concomitanza dell'arrivo dei rapinatori che senza alcun problema si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale. Il presunto complice, nel plausibile intento di depistare le prove relative al suo coinvolgimento, una volta fuori avrebbe effettuato una telefonata ai carabinieri senza proferire parola. Ultimate le formalità di rito, i due palermitani sono stati ristretti presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo, mentre il giovane ventiduenne del posto è stato ristretto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari. Evade dai domiciliari e va al bar. Il fatto è avvenuto a Pachino, siamo chiaramente nel Siracusano e un giovane è stato beccato dai carabinieri e per lui chiaramente sono scattate le manette. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Pachino hanno tratto in arresto un 26enne gravemente indiziato del reato di evasione. Il giovane è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico lo scorso luglio, poiché è gravemente indiziato di atti persecutori, lesioni personali e tentata estorsione, ma ha pensato bene di recarsi in un bar del centro urbano, dove è stato però rintracciato dai militari dell'arma della locale stazione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Due invece le persone arrestate dalla polizia tra Gela e Niscemi, entrambe sono finite in carcere, si tratta di persone condannate con pena definitiva. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno eseguito un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello nei confronti di un 27enne condannato alla pena di 7 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto per i reati di furto, rapina, resistenza pubblico ufficiale e altro. Analogamente, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno eseguito l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 63enne condannato dal Tribunale di Gela a due anni e 20 giorni di reclusione e un anno e due mesi di arresto per i reati di ricettazione, violazione delle prescrizioni inerenti, la sorveglianza speciale e altro. Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti in carcere a Gela. Un ladro è stato invece arrestato a Catania, si tratta di un trentenne beccato dai carabinieri. Vediamo il servizio. Tentato furto alla Facoltà di Giurisprudenza di Catania, un trentenne pregiudicato si è infatti introdotto all'interno del plesso universitario di Via Gallo, attualmente oggetto di ristrutturazione. Il ladro aveva preso di mira un container che la ditta appaltatrice per i lavori aveva installato nel cortile dello stabile. Dopo aver rotto una finestra, il trentenne si era intrufolato nell'area recintata, cominciando a rovistare e selezionando il materiale di suo interesse. Il malvivente però non sapeva che in tutti gli ambienti dell'università sono installate delle videocamere di sicurezza che lo hanno immortalato. La sua presenza dunque non è passata inosservata e quando gli addetti alla vigilanza hanno chiamato il numero di emergenza 112, la centrale operativa ha subito inviato sul posto due pattuglie. Due gazzelle hanno quindi raggiunto la sede dell'università in pochissimo tempo e mentre una è entrata nella struttura dall'ingresso principale, l'altra si è appostata nei pressi dell'uscita secondaria. L'uomo è stato bloccato proprio mentre tentava la fuga dal cancello retrostante l'ingresso principale, quello che si affaccia su piazza Santo Carcere. Messo in sicurezza, il trentenne è stato perquisito e sotto il giaccone i carabinieri hanno trovato, oltre a una torcia, un cappellino con visiera che molto probabilmente pensava di indossare al termine del furto per allontanarsi con l'area furtiva senza essere riconosciuto. I militari dell'arma hanno recuperato tutti gli attrezzi da lavoro che il ladro aveva prelevato dal container, materiale del valore commerciale di quasi 10.000 euro, restituendo il tutto alla ditta proprietaria. Il soggetto è stato invece arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Restiamo a Catania, parliamo di un altro arresto effettuato dalla polizia, in questo caso per evasione, un 29enne evaso dai domiciliari e beccato come detto dai poliziotti. I poliziotti del commissariato Borgoognina hanno tratto in arresto un giovane pregiudicato di 29 anni per il reato di evasione. La pattuglia, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori consumati in danno degli esercizi commerciali, ha notato all'interno di un supermercato di Via del Rotolo un giovane che si aggirava tra gli scaffali dei vari reparti con fare sospetto. Il soggetto, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi alla svelta ma è stato subito raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati in uso alle forze di polizia è emerso che il 29enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che avrebbe dovuto scontare presso la propria abitazione ubicata nel quartiere Picanello. Alla luce di quanto accertato, svolti gli adempimenti di rito, il 29enne è stato arrestato per il reato di evasione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.